Quello che posso darti è una parola Tenet aprirà le porte giuste e anche alcune sbagliate Usala con cautela Per fare quello che faccio Devo avere un'idea della minaccia che affrontiamo Da quello che so Cerchiamo di evitare la terza guerra mondiale Non mi sembra l'armageddon No È peggio Mi dicono che è interessato A un certo cittadino russo A che ti servo? Puoi saperlo davvero? Può comunicare col futuro Viaggio nel tempo? No Inversione Mira e premi il grilletto Non spari il proiettile Lo prendi Ho visto troppo Cercheremo di stare al passo La missione trascende gli interessi nazionali È in gioco la sopravvivenza Mi sembra audace Audace va bene Credevo dicesse folle Qui i nostri mondi si scontrano Come vorresti morire? Da vecchio Allora hai sbagliato professione Che è successo qui? Non è ancora successo C'è gente nel futuro che ha bisogno di noi Di Tenet Dobbiamo salvarli Qui e ora Con l'inversione del flusso del tempo Noi che siamo qui ora Non significa che non è mai successo Vuoi far schiantare un aereo? Ma non stando in aria Niente di drammatico E quanto è grande l'aereo? Ecco questa è la parte Un po' drammatica